non c'è dubbio il greco è uno degli artisti più sorprendenti originali e il suo lavoro non può essere assegnato a nessuna scuola nazionale greco di origine studiò pittura in italia nello studio del grande tiziano dove fu fortemente influenzato dai coloristi veneziani da loro apprese la tecnica della pittura a olio all'età di 35 anni si trasferì nell'antica capitale spagnola toledo dove conobbe l'arte realista spagnola fu anche ispirato dalle composizioni artistiche e dalle figure del manierismo italiano il greco si è distinto per l'originalità del suo stile drammaticamente espressivo nei suoi ritratti ha dedicato grande attenzione alla forte caratterizzazione psicologica in questo dipinto dell'ermitage ci presenta due diversi tipi di persone il greco dipinse varie coppie di santi a partire dal 1590 a sinistra c'è l'apostolo pietro che per tre volte ha negato di conoscere cristo dopo il suo arresto il suo aspetto trasmette dolore e incertezza mentre il suo sguardo e il suo gesto hanno un senso di pentimento e supplica il magistrale apostolo paolo che come noto fu in origine uno zelante persecutore dei cristiani si mostra pieno di ardore spirituale nella sua affermazione della verità è possibile che nel suo aspetto l'artista abbia catturato i propri lineamenti i colori intensi dei mantelli la cui energia sottolinea i contrasti barocchi di luce ombra non impediscono al greco di creare una composizione equilibrata la delicata pittura delle mani e dei volti pongono l'attenzione sull'umanità di pietro e paolo mentre le fogge degli abiti eseguite liberamente danno il senso della grandezza del ministero degli apostoli il soggetto di questo dipinto è sicuramente la riconciliazione tra i due apostoli che erano stati in disaccordo come dimostra l'unione delle mani che si intrecciano senza toccarsi infatti i gesti delle mani che costituiscono il centro compositivo dell'opera esprimono un dialogo che unisce i due apostoli se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando